Pallone per l'IAI, c'è mara di rigore, è il go della freccia nera, è il go della freccia nera! Riparta adesso Olebas, ancora Olebas, l'accelerazione, Olebas in era di rigore, il sinistro, go! 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 Un gol fantastico, un gol fantastico di Olebas, un gol fantastico di Olebas, è partito dalla sua area di rigore, si è fatto tutto il campo sotto la teper, è entrato in area di rigore, ha lasciato partire un sinistro amici di Olebas! Lina di fondo, ancora la freccia nera, il cross arredrato, il capitano, 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 il tocco pieno! GOOOOOO! E' il goal di Miralem, il gol di Giotto! E' il gol di Giotto! E' il gol di Giotto! Adesso fallo a segno Svaldo, fai così Svaldo! alza le braccia sbando parte Miralem il tiro GOOOOO 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 Giotto 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 un gol strepitoso Giotto strepitoso nel set alla destra di Andanovic GOOOOO 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 GOOOOO